Le fiamme gialle di Trieste e Napoli coordinate dalla Procura della Repubblica Partenopea hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni del valore di oltre 53 milioni di euro nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di una fraude fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. L'attività investigativa avviata dal nucleo di polizia economico-finanziare del capologo Friulano ha consentito di accertare una maxievasione fiscale posta in essere da una nota società campana operante nel commercio di prodotti petroliferi, la quale avrebbe effettuato fittizie cessioni di carburante ad alcune società fantasma per oltre 146 milioni di euro, evadendo in tal modo l'imposta sul valore aggiunto per circa 33 milioni di euro. In aggiunta per lo stesso anno di imposta, la dichiarazione dei redditi non risulta essere mai stata presentata, con conseguente evasione dell'IRES quasi 20 milioni di euro. Secondo la ricostruzione operata dalle fiamme gialle, la società si sarebbe collocata al centro di un folto gruppo di imprese fantasma dislocate sull'intero territorio nazionale. I titolari di fatto dell'azienda, grazie alla loro pluriannale esperienza nel settore degli oli minerali, avrebbero venduto milioni di litri di prodotti energetici a società cartiere fittiziamente dichiarati esportatori abituali, che proprio in virtù di tale falso status, potevano acquistare i prodotti senza l'applicazione dell'IVA. Successivamente, le società fantasma rivendevano gli stessi prodotti applicando l'IVA al cliente finale, senza poi versarla all'erario, meccanismo fraudolento tipico della cosiddetta frode carosello. Per effetto delle condotte ipotizzate, la società avrebbe negli anni assunto una posizione assolutamente dominante sul mercato, ponendo in essere una concorrenza sleale con grave documento non solo per l'erario, ma anche per le aziende del settore che operano nella legalità. Gli odierni sequestri per equivalente restituiscono alla collettività un'ingente somma di denaro di circa 54 milioni di euro. Denaro che era stato sottratto all'erario da un sodalizio criminale partenopeo che attraverso una complessa frode fiscale era riuscita ad acquisire nel giro di pochissimo tempo il più grande deposito di oli minerali d'Italia, con sede a Trieste. Aveva poi sfruttato questo deposito per poter piazzare e vendere sull'intero territorio nazionale carburante a basso costo, tax free, di fatto divenendo nel giro di pochissimi mesi leader in contrastato del mercato quasi monopolista e mettendo fuori gioco tutti gli operatori onesti di settore.